Oggi, grazie a Konami, siamo qui con l'opening in anteprima di Valorosi Distruttori, il nuovo set in uscita da noi il 16 novembre, dove all'interno potremo trovare tre nuovi mazzi e ovviamente carte che supportano quest'ultimo. Detto questo, ragazzi, vi ricordo ovviamente di lasciare un like e adesso andiamocelo a spacchettare. Ovviamente, ragazzi, noi all'interno di questo box avremo 24 bustine e 7 carte per busta, ma adesso andiamocelo ad aprire per vedere effettivamente quali sono i nuovi mazzi e quali sono le rarità di questo box. Ovviamente la rarità maggiore sarà la ultra e poi tutte le altre saranno super o rare. Abbiamo Monaco Evocatore, Syncro Trasmissione, Richiamo del Posseduto, Combattente Colossale, Drago Berserk del Teni, ottima carta per il competitivo, Fioriera Magica e come prima super Zebufera, Pagano Sacro, Valmonico, uno dei tre nuovi archetipi che potremo trovare all'interno di questo set. Andiamo con il secondo, per adesso non ci sta andando benino, comunque è il secondo pacchetto. Vorrei trovare oltre le ultra anche la Collector, che è una carta con una rarità incredibile. Mamma mia, sarebbe bellissimo. Allora abbiamo Ibicella Lutea, particolare come artwork, poi per concludere Ritmo seguito Valmonica. Andiamo con il terzo, sperando di tirare fuori qualcosa qua. Abbiamo Archie Nemesis, squadra di rifornimento, ce ne può essere solo uno, anche questa ottima ristampa, poi esplosione nel cranio Mementlan, terraformaria, anche questa ottima ristampa, vetro colorato e Angelo Valmonica, una delle carte dell'archetipo che abbiamo visto prima e che è pendolo. Andiamo avanti. Allora, vediamo se troviamo anche il terzo archetipo adesso. Abbiamo Dragocorno Mementlan, Arcisignore Cristia, carta ottima per il retroformat, Imperatore Mekonoth Grannell, Mementlacitlan, poi Abominevole Amnima Svincolata, Richiamo del Posseduto e per concludere, rialzati. Una delle carte che mi interessano di più perché diciamo che più avanti vorrò giocare proprio questo mazzo. Speriamo adesso di riuscire a trovare anche qualcos'altro perché sicuramente non mi dispiace. Abbiamo un altro, ce ne può essere solo uno, Ritorno delle ossa Mementlan, poi Danza Frattura Mementlan, squadra di rifornimento, numero 41 Babusca, ottima ristampa, poi abbiamo Sorella Fantasma e Corniolo Spettrale e per concludere, altra carta Valmonica che abbiamo già visto prima. Proseguiamo. Qui abbiamo Monaco Vocatore, un'altra Ibicella, Archie Nemesis, poi Crollo Gravitazionale, ottimo che aveva una sola, no, un paio di ristampe, poi Fioriera Magica, un altro Drago Berserk del Teni e come ultima abbiamo carta Mementlan, praticamente questa carta parte scartandola dalla mano. Diciamo che il Memento come mazzo funziona molto da cimitero, quindi diciamo soffre carte come scorridore dimensionale. Abbiamo Sepoltura Sciocca, Altrucisi Signore Cristia, Crollo Gravitazionale, Drago Berserk del Teni, Sincro Trasmissione, Spirito Protettrice e come ultima, mi sa che è una Ultra, sì, è il carta Valmonica. Speriamo nella carta Centurion, però comunque non ce la priviamo. Andiamo con il prossimo, abbiamo Goblin Mementlan, Danza Frattura, L'Onesto Scuro, Ritorno delle ossa Mementlan, poi Corniolo Spettrale, Angelo di Zera e come ultima abbiamo Angello Valmonica, che dovrebbe essere quello che abbiamo già visto prima. Andiamo con il prossimo pacca. Abbiamo Esplosione del Cranio, Tradizione, Abominevole Anima Svincolata, Memento Mictlan, lo dirò bene prima della fine del video, Sincro Trasmissione, Apophis e come ultima, bene, 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 un'altra Terreno Centurion. Adesso speriamo di trovare anche la terza. Allora, riuscire a trovarne un'altra non sarebbe male, sarei molto contento. Poi vediamo, potrebbe essere anche in qualche realtà maggiore. Abbiamo Fiorira Magica, Crollo Gravitazionale, Dragocorno Mementolan, numero 41, Goblin, poi Danza Frattura e come ultima L'Amo Oscura Mementolan, altro supporto che non avevamo ancora trovato. Allora, per adesso non mi posso lamentare, è già uscita una Ultra, delle Super sta uscendo quello che mi interessava, quindi a posto. Abbiamo un Onesto, Dragocorno, Sepoltura Sciocca, Arci Signore Cristia, Sincro Trasmissione, Richiamo del Posseduto e mi sa, sì, un'altra Ultra, altra Ultra Balmonica. La Terreno a questo giro. Diciamo che a questo punto mi sa che toccherà montare questo, visto che ho trovato le sue Ultra, anche se io confidavo più in Centurion. Adesso, vediamo. Comunque non è ancora detto, possono uscire ancora tante tante altre robe interessanti. Abbiamo Tradizione Imperiale, Ritorno delle ossa, Vetro Colorato, Terreno Memento, Imperatore, Apophis e come ultima, altra carta Balmonica. Ho capito, va bene, questo è il Box Balmonica. Se esce anche la carta Balmonica in questa rarità, toccherà per forza montarlo. Allora, abbiamo Angelo di Zera, Arci Nemesis, Sincro Trasmissione, Richiamo del Posseduto e scelta Balmonica di nuovo. Peccato, abbiamo la stessa di prima. Abbiamo praticamente pullato solo roba Balmonica, che è abbastanza incredibile. Allora, andiamo col prossimo. Abbiamo Dragocorno Mementlan, Drago Berserk, Fioriera Magica, Imperatore Mechlord, Squadra di Rifornimento, ce ne può essere solo uno e Dimono, Balmonica. Praticamente l'altra che troviamo anche nella cover del pacchetto. Eccoli ragazzi tutti e due. Poi abbiamo il Centurion in alto e la Balmonica qua a destra, che questi praticamente sono i mostri grossi del mazzo. Comunque abbiamo quasi finito, ci mancano penso 7-8 pacchetti. Abbiamo Valhalla, Sala dei Caduti, Terra Formaria, Vetro Colorato, Ritorno delle ossa, Arci Signore Cristia, Crollo Gravitazionale e Duralume, Sacro Pagano, Balmonicano, che praticamente è stato disegnato al contrario. Guardate che carino. Andiamo con il prossimo, vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Ho visto Link, potrebbe essere ancora lo stesso. Abbiamo Angelo di Zera, L'Onesto Scuro, Goblin Mementlan, Carta Goblin, Artista Magus, Abominevole Anima, Terra Formaria e Zera Bufera, il Pagano Sacro Valmonicano, che abbiamo visto prima. Prossimo pack abbiamo Pescata di avanzamento, L'Onesto, Valhalla, Sala dei Caduti e Monaco Vocatore, Combattente Colossale, Imperatore Mechlord e Legami Centurion, la Magia Rapida, che praticamente mette i Centurion nella zona Carte Magia e Trappola. Allora, andiamo avanti e speriamo a questo punto di trovare pure un Centurion. Vediamo cosa c'è qua dentro. Abbiamo Squadra di Rifornimento, Spirito Protettrice, Sorella Corniolo Spettrale, un altro ce ne può essere solo uno, Carta Goblin e altra carta Valmonica. Questo è il box Valmonica. Palese. Andiamo con il prossimo. Io ci voglio credere, dai. Dai che ci voglio credere nelle carte Centurion. Allora, Apophis, L'Onesto, Terraformarea, Angio di Zera e altra carta Valmonica. Abbiamo l'intero mazzo, fosse la volta buona che cambia mazzo, Synchro Trasmissione, Spirito Protettrice, Combattente Colossale, Danza Frattura, L'Onesto e Rialza di Centurion. Oh, finalmente abbiamo fatto anche il playset della carta Magia Terreno. Top. Allora, ci sono rimasti con questo quattro pacchetti. Abbiamo numero 41, Sorella, Angelo di Zera, Pescata di Avanzamento, Tradizione Imperiale, Squadra di Rifornimento e la Controtrappola di Centurion. Ottima. Questo qui nega carte Magie e Trappola. Andiamo col prossimo. Comunque, ridendo e scherzando, non mi è andata male. Sono abbastanza soddisfatto di questo box. Adesso poi se esce anche la rara da collezione sarebbe una roba incredibile. Ma vediamo, eh. Ibicella, Vetro Colorato e come ultima, oh, anche l'altra trappola Centurion. Andiamo col prossimo pack. Dai, 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 ci voglio credere. O un'altra ultra o la rara da collezione. Allora, Combattente Colossale, Crollo Gravitazionale, Arcinemesis e Dimono Valmonica. Ragazzi, ormai è destino. Ultimo pack per crederci, dai. Fatemi vedere un'altra carta che brilla, per favore. Crollo Gravitazionale, Sepoltura Sciocca, Artista Magus, Imperatore Mechlord e Dimono Valmonica. Di nuovo. Quindi, ragazzi, vi confermo che giocherò Valmonica adesso. E va bene, ragazzi. Il video finisce qua. Spero, come sempre, vi sia piaciuto. E fatemi sapere, qua sotto con un commento, qual è il mazzo dei tre che preferite. Centurion, Memento o Valmonica. Perché nel pratico sono tutti e tre mazzi interessanti e volevo sapere ovviamente la vostra. Detto questo, ringrazio ovviamente Konami per l'opportunità. E noi ragazzi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.